fino a quando l'azienda ha tale difficoltà ad andare avanti che l'unica possibilità è quella dello svantellamento e chi lo fa a questo punto lo farà justificando il fatto che l'azienda comunque non va avanti e non prodisce questo ne potremmo assolutamente riparare perché questa è un'azienda di pesce modifica questa è un'azienda che ha delle potenziali enormi è nata con un'idea l'idea di Welsen per la città e così per i quali hanno dimostrato di poter essere produttivi e di sapere operare bene sono lavoratori altamente qualificati e specializzati è un'entità quasi